Salve a tutte e tutti, eccoci ad un nuovo video con il quale si inaugura una nuova playlist su questo canale dedicata alla metrica greca e poi alla metrica latina. Innanzitutto partiamo dall'esametro, dunque dal verso dell'epica, che è il primo verso che incontriamo sia a livello cronologico nella storia della letteratura occidentale sia di solito il primo verso con cui abbiamo a che fare nello studio del greco e poi del latino. Noi sappiamo benissimo che nel momento in cui ci troviamo di fronte a un testo di Omero le difficoltà sono molte, ma la difficoltà principale, secondo me, sta nel comprendere come si calcola la quantità delle sillabe, che è il primo passo che dobbiamo fare per poter andare a ricostruire i piedi dell'esametro e dunque per poter capire dove devo mettere gli accenti e dove devo mettere le cesure, che sono i due passaggi necessari per poter poi leggere in metrica. Allora, per imparare a fare questo lavoro al meglio, io ho pensato bene di realizzare qualche video su magari dei brani più famosi dell'Iliade o dell'Odissea in maniera tale che così esercitandoci su questi testi impariamo poi come si legge in metrica e per i testi successivi diventiamo autonomi. Poi, visto che mi trovavo e avevo il materiale già organizzato, ho fatto anche una piccola costruzione di questi versi e una piccola traduzione letterale perché ovviamente la lettura metrica è vero che deve rispettare gli accenti ma rende meglio se quando leggiamo conosciamo il significato del testo che stiamo leggendo e quindi siccome la lettura metrica è il primo momento del lavoro su un testo che richiede ovviamente poi l'analisi, la costruzione e la traduzione, visto che mi trovavo comunque a fare un lavoro sulla metrica ho fatto il lavoro dall'inizio alla fine, dunque ho messo anche la costruzione e la traduzione. Allora, quando noi abbiamo davanti un testo di epica, quindi un testo scritto in esametri, abbiamo un testo del genere e noi sappiamo che il primo lavoro che dobbiamo fare è quello di calcolare la quantità delle sillabe e qui sorge il primo problema perché ci viene detto che dobbiamo guardare se la sillaba è aperta, se la sillaba è chiusa e tanti problemi. Allora, tutte queste regole della sillaba aperta o della sillaba chiusa vanno conosciute però ci sono poi anche i trucchi a cui possiamo ricorrere. Allora, il trucco è questo Io vado a calcolare, per calcolare la quantità di una sillaba vado a guardare la vocale e in particolar modo di ogni vocale guardo ciò che segue. Allora, se segue un'altra vocale o un dittongo, quella sillaba è tendenzialmente breve Se seguono invece due consonanti, quella sillaba è lunga. Se segue una sola consonante, quella sillaba sarà breve o lunga a seconda della quantità della vocale stessa. Quindi se per esempio ho un'eta che è lunga, seguita da una sola consonante ecco che quella sillaba sarà breve. Il trucco è soltanto questo Alla luce di questo, il primo passaggio che ho fatto è stato andare ad individuare per questi primi 32 versi la quantità delle sillabe e ve lo ha indicato così. Le sillabe lunghe, delle sillabe lunghe, ho evidenziato il rosso la vocale e ho lasciato trasparenti le sillabe brevi. E quindi vediamo sul primo verso l'eta è seguita da una sola consonante per conformazione lunga, quindi è lunga la iota seguita da una sola consonante è breve l'alfa seguita da un dittongo è breve un dittongo seguito da una sola consonante, ma è un dittongo è lungo epsilon seguita da una sola consonante è breve l'altra epsilon seguita da vocale è breve quell'alfa è lunga per posizione l'eta seguita da una sola consonante è lunga per natura, quindi è lunga l'altra eta è lunga, breve breve, lunga brevi, brevi, lunga, lunga Alla luce di questo calcolo io vado a vedere i piedi dell'esametro allora, esametro etimologicamente significa proprio questo esa sei, metron, piedi, quindi io avrò sei piccoli blocchi questi piccoli blocchi possono essere di tre nature la maggior parte dei piedi dell'esametro sono dattili cioè una prima sillaba lunga seguita da due brevi dopodiché nel corpo dell'esametro posso avere degli spondei, cioè due sillabe lunghe poi l'ultimo piede, il sesto, può essere uno spondeo, cioè lunga lunga oppure un trocheo, lunga breve nella maggior parte dei versi dell'iliade, dell'odissea e dell'eneide il penultimo piede, il quinto piede dell'esametro è sempre un dattilo lunga, breve, breve in questo modo noi di ogni esametro possiamo già mettere tre accenti senza dover far nessun calcolo perché? Perché sicuramente il primo piede potrebbe essere o un dattilo o uno spondeo ma in ogni caso la prima sillaba sarebbe lunga dunque accentata quindi in ogni esametro la prima sillaba è sempre accentata l'ultimo piede, abbiamo detto, può essere o uno spondeo, lunga lunga o un trocheo, lunga breve in ogni caso l'accento starà sulla prima delle due sillabe quindi nell'esametro la penultima sillaba è sempre accentata poi abbiamo detto che il quinto piede, quindi il penultimo piede salvo rarissime eccezioni è un dattilo e quindi avrò una lunga seguita da due brevi allora io tre accenti li metto subito senza contare perché accento la prima sillaba, la penultima e la quintultima e poi vado a calcolare gli altri tre accenti andando a vedere appunto se le mie sillabe sono lunghe o brevi seguendo poi la logica cioè se io ho una prima sillaba di cui sono certa che è lunga la seconda di cui sono certa che è breve quella dopo deve essere per forza breve finisce il piede e quella dopo deve essere per forza lunga se io ho una sillaba lunga seguita da un'altra sillaba lunga vuol dire che ho uno spondeo quindi il piede si chiude lì quella dopo deve essere un'altra volta lunga perché comincia un altro piede quindi se io mi attengo a queste regole non ho problemi nel calcolare come mettere gli accenti e poi vedrete che piano piano imparati i primi 150 versi non vi serve più il calcolo e andate a orecchio e a occhio vi viene naturale discorso delle cesure allora la maggior parte delle cesure voi anche qui avrete sentito questi termini pentemimera, eptemimera dici oddio come faccio eppure questo è semplicissimo allora se in un verso non c'è né un segno di interpunzione in mezzo al verso quindi un punto in alto, una virgola o un complemento di vocazione la cesura sarà pentemimera cioè praticamente dopo il terzo accento dove finisce la parola c'è la cesura se invece nel verso c'è una virgola un punto in alto un complemento di vocazione che viene a cadere dopo il secondo accento io metto una prima breve pausa dopo il secondo accento e un'altra dopo il quarto accento sempre dove finisce la parola vediamo qualche esempio qua ho riportato solo le cesure tra l'altro i primi due versi ci permettono già di vedere le due cesure che si trovano più spesso la prima è la pentemimera e tra l'altro è quella che si trova più frequentemente come vedete nel verso non c'è nessun segno di interpunzione quindi io qui ho menin aeide fea il terzo accento sta su quell'alfa la parola finisce a sea cesura e vado avanti il secondo verso ulomenen ho due accenti virgola quindi c'è una prima pausa emmuri acaiois quarto accento dove finisce la parola acaiois ci va l'altra cesura alghe e seche per il resto quello dopo di nuovo va a pentemimera pollas diphtimus psichasa idiproiapsen quello dopo vedete alla virgola quindi devo fare ero on due accenti finisce la parola cesura autus de loria cesura teuche chunesin tutto qua alla luce di queste informazioni posso procedere alla mia lettura metrica e devo ecco avere semplicemente l'accortezza di dove ho la cesura riprendere poco poco fiato non è che devo fare proprio una pausa devo riprendere un po' di fiato ci accorgeremo che la maggior parte dei versi ha questa cesura pentemimera e questo fa sì che il suono sia sempre lo stesso il ritmo sia sempre lo stesso cambia leggermente soltanto quando ho l'altra cesura il che è anche un bene perché se no sarebbe molto noiosa la lettura metrica e invece ci accorgiamo che l'accentazione metrica accompagna anche il testo nel suo significato ma questo ci riesce meglio solo e soltanto quando avremo tradotto e compreso bene che cosa dice il testo quindi piano piano diciamo l'acquisizione della capacità di leggere in metrica guardate che è un po' un circolo virtuoso perché uno piano piano inizia a leggere in metrica e inizia a sviluppare l'orecchio poi vi accorgerete che le formule ricorrenti sono sempre le stesse e le imparate anche i termini usati molto spesso sono gli stessi quindi dopo un po' vi accorgerete che non solo vi viene naturale comprendere qual è il sistema degli accenti ad orecchio ma bene o male non dico tutto ma gran parte del testo riuscirete a comprenderlo senza grandi riflessioni però dopo un po' quindi se per i primi 30 50 60 versi vi sentite in grande difficoltà perché dite oddio ma io la traduzione non me la ricordo proprio non c'è nessuna parola che mi riporta perché poi ci accorgeremo ci sono anche delle particolarità nella declinazione dei nomi uno piano piano ci prende la mano quindi l'importante è uno non frustrarsi non buttarsi giù tanta pazienza superare anche un po' la timidezza perché insomma la musicalità dell'esametro non è proprio attuale ecco diciamo così però poi dopo uno piano piano ci riesce quindi andiamo procediamo a lettura e vediamo che ne viene fuori quindi vediamo questi primi trentadue versi allora meninaeide thea pelea deo achileos ulomenen emyuri acaio idalge teche pollas diftimus psiukasa idipro iapsen ero on autus deloria teuche chiunessin oio noi siete pasi dios de te leie tobule ex udetta prota diaste tenerisante a treideste anax andron caidios achilleus tistas foeteon eridixine ece ma cestai letos caidios ios o garbasi lei coloteis nusona nastraton orse cacen o leconto de laui unica ton cruzen et imasenare tera a treides o gar eltes oaste epinea sacaion lusome noste tiugatra feronta pereisi apoina stemma teconen kersin ecebulu apollonos cruzen anas scriptro caeliste topanta sacaius a treidade malista dio cosmetore laon a treidade caialloi e uc nemide sacaioi iu minment teodoyen olympia doma tecontes ec per sai priamoglio polin e udoica di cestai pae da demone liuzaite filen tadapoena di cestai cestai e anche se non si può fare, e si può fare una stessa parte, e se si può fare un'idea, e si può fare un'idea. Alla cosa fai, si può fare un'idea di un'idea, e si può fare un'idea di un'idea di una paranoia, e non si può fare un'idea, Questo è il testo. Il testo di cui adesso andiamo a vedere la costruzione e la traduzione, diciamo, frase per frase. Qui, Aide, Thea, Canta, Odea, Menin, sarebbe Lira, Ilmenen, che distrugge, è un participio congiunto al complemento oggetto, quindi distruttrice, di Achille, figlio di Peleo, il Pelide, è Etheche, qui inizia una subordinata relativa propria, la quale Ira sarebbe che procurò a Caiois, agli Achei, Myuri, Alge, infiniti morti. Proia, Psen, Aide, Pollas, Diftimus, Psyukas, quindi gettò nell'Ade, molte e valorose anime, Eroon, di Eroi. Teuche, Autois, quindi rese, Costoro, Eloria, Cibo, Cunesin, Oionoisi, Te Pasi, quindi Cibo per Cunesin, per i cani, e per Pasi, Oionoisi, quindi e per tutti gli uccelli. De, Eteleieto, Buledios, infatti si compiva la volontà di Zeus, Exu, da quando, Tapprota, in un primo tempo, Erisante, questo è un participio congiunto al soggetto che è duale, quindi è un participio nominativo duale, litigando, Diasteten, quindi si divisero, Latreides, Anax Andron, quindi Latride, il figlio di Atreo, quindi Agamennone, Signore, Anax, Andron, di uomini, e Dios, Achilleus, e lo splendido Achille. Tis, fra i Teon, chi fra gli dèi, Xuneike, Sfoe, Machestai, Eridi, quindi chi fra gli dèi, aveva spinto Sfoe, i due, a Machestai, a combattersi, Eridi, con odio, Iugios, Letus, Cadios, il figlio di Leto, e Zeus, quindi Apollo. Oghar, costui, infatti, Coloteis, Basilei, adiratosi con il re, sdegnatosi con il re, Orse, Caken, Nuson, Anastraton, diffuse una brutta peste lungo l'accampamento, fra l'accampamento, e Ilaoi, Olè, Conto, e gli uomini in armi morivano. Uneka, poiché Atreides, poiché Latride, Etimasen, aveva mancato di rispetto, aveva disonorato, Ton, Aretera, Chrysen, il sacerdote, Chryse. Oghar, Elte, Epineas, Toas, Acaion, costui, infatti, costui sarebbe Chryse, giunse presso le navi veloci, anche questa è un'espressione molto ricorrente, Neas, Toas, le navi veloci, Acaion, degli Achei. Liusomenos, questo è un participio futuro, dunque, con valore finale, Siugatra, quindi, per liberare la figlia, Feron, Apoena, Aperesi, quindi, portando un cospicuo riscatto, Econen, Kersii, quindi, avendo nelle mani, portando in mano, Stemmata, Echebolo, Apollonos, quindi, le bende del lungisettante Apollo, Echebolo, lungisettante, conviene tradurlo sempre, Anas, Scheptro, Cruzeo, su uno scettro d'oro, Caelisse, Topantas, Acaius, e supplicava tutti gli Achei, Demalista, ma soprattutto, Giuo Atreida, i due Atridi, Quindi, i due figli di Atreo, quindi, Agamemnon e Menerao, Cosmetore, Laon, ordinatori di eserciti. Questa è la preghiera che pronuncia Crise, Quindi, o Atridi, e voi altri Achei, dai folti schinieri, Quindi, Eucnemides, gli dèi, che hanno Econtes, Vedete, il participio congiunto al soggetto, Domata, Olimpia, quindi, che hanno le dimore dell'Olimpo, Doien, Iumin, concedano a voi, di Ekpersai, la Polin, Priamo, io, Quindi, di distruggere la città di Priamo, E di, i Kestai, oikade, eu, letteralmente vuol dire, E di ritornare a casa bene, quindi, diciamo, E di ritornare a casa salvi. De, liusete, e moi, filempaida, Però, liberate per me l'amata figlia, Ma, liberate la mia amata figlia, E de, che stai, de, ta, apoina, E accettate questo riscatto, accettate il riscatto, Azomenoi, participio congiunto al soggetto voi, Quindi, mostrando rispetto, Apollona, Ekebolon, Iuion, Dios, Quindi, mostrando rispetto per Apollo, Lungisettante, il figlio di Zeus, Enta, Pantesallo, Emenacaioi, Epeu, Epeu, Femesan, di Aideistai, Ierea, E Dehtai, Aglaa, Apoina, Quindi, frattanto, in quel frangente, Tutti gli Achei, urlavano a gran voce, Quindi, approvavano, Di mostrare rispetto, Quindi, di rispettare il sacerdote, Quindi, di accettare con rispetto La proposta del sacerdote, E quindi, di accettare il cospicuo, E prezioso riscatto. Alla, la treide, Alla treide Agamennoni, Uchenda ne tiumo, Ma, alla treide Agamennone, Non piacque nell'animo, Alla, a fiei, cacos, Ma lo cacciò, in malo modo, Cacos, cacos è malamente, Quindi, in malo modo, De, epi, etele, Crateron, muton, E aggiunse anche un duro discorso, E adesso abbiamo le parole brutte, Brutte, che pronuncia Agamennone. Me, ego, Hikeio, se, gheron, Parà, coilesin, neusì, E niun, desiunontà, E justeron, iunta, autis. Quindi, che non accada che io colga, Te, se, gheron, vecchio, Presso, le neusì, coilesin, Quindi, presso, le navi capienti, E, quel se, che è complemento oggetto, Ha congiunti questi due participi, Desiunontà e Ionta, Ne, adesso che induggi, Ne, in seguito, Che, a ritornare di nuovo. Ni, me, toi, Craisme, U, skeptron, Kai, stemma, se, oio. Certamente, allora, Non ti gioverà nello scettro, Nelle bende del Dio. Quindi, se ti colgo ancora qui, Se non te ne vai subito, Non mi interessano i tuoi paramenti sacerdotali, Io ti colpisco. Ego, uten, deliuso. Io non libererò lei, Io non la libererò. Prin, Kai, gheras, e peisin, min, E, ni, emeter, oio, con, en, argei, teloti, patros. Quindi, io non la libererò. Prima che Kai, gheras, anche la vecchiaia, Raggiunga, e peisin, min, lei, Nella nostra casa ad argo, Teloti, patres, Quindi, lontano dalla patria. E questi sono due participi congiunti al complemento oggetto min, lei. Quindi, mentre sarà intenta al telaio, O, andrà avanti e indietro, Avanti e indietro dal mio letto. Questi participi sono al presente, Quindi, instaurano un rapporto di contemporaneità, Visto che la reggente al tempo futuro, Vanno al futuro. All'iti, me, 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 eretize, osche, neai, saoteros. Ma va via, iti, e non, infastidio, non mi infastidire, Affinché tu ritorni sano e salvo. Quindi sarebbe, ma vattene, non darmi fastidio, Se vuoi aver salva la vita. Questi sono i primi 32 versi. Bene, io spero che, alla luce di questa spiegazione, Anche di ciò che dice il testo, La lettura in metrica sia più semplice per voi. Dunque, io ringrazio Chi ha seguito questo video fino alla fine. Esorto, come è mio costume, Tutte e tutti ad effettuare l'iscrizione al canale Per non perdere le prossime pubblicazioni. E ci vediamo ad un prossimo video Che invece sarà su Tersite E quindi ci permetterà di riflettere Su quella concezione greca Della calo-cagatia da una parte Quindi la bellezza legata alla bontà morale da una parte La bruttezza e la deformità Invece legata alla viltà E tra l'altro, in questo episodio di Tersite Noi potremmo fare anche una riflessione Sul concetto di autorità Dunque, io ringrazio ancora tutte e tutti Per l'attenzione E ci vediamo al prossimo video